Io sono free copyright, cioè sono il primo che dice se vuoi usare il mio pezzo puoi usarlo Me lo dici, però io posso usare un pezzo tuo Questa cosa secondo me dovrebbe essere, perché per me il campionamento è come suonare uno strumento Cioè è come dire, ah compri una Fender, però ogni volta che suonano la Fender devi dire che suonano la Fender Che cazzo vuol dire? Ho comprato la Fender, suonano la Fender Così il sampling dovrebbe essere